Una vita sfortunata, ma per fortuna c'è ancora. Si chiama Anna Maria e quando ha rischiato la vita aveva nove anni, a quel che sembra per una sbatataggine, un gesto, una distrazione. Questo accadeva nell'estate di sei anni fa. Ora c'aveva sede, stava giocando, era estate. Ne hanno passato un bicchiere che invece dell'acqua conteneva della soda caustica. Giovanni Cagnazzo, buongiorno, è il papà, eccoci qua. Allora, voi eravate a Turi, vicino a Bari. Matrimonio, classica festa di matrimonio, atmosfera spensierata, a parte lo sposo della sposa, che scherzi a parte, lei e sua moglie stavate bene, vi stavate divertendo e poi invece? È successo che una serata d'estate, il caldo, la bambina ha la necessità di bere, e all'improvviso ci chiede, mamma vado al gazebo, che era lì a quattro metri, lì vicino, e chiede un bicchiere d'acqua. Le servono inizialmente un bicchiere d'acqua di acqua gassata, che a lei non piace, che a lei non piace, e richiede quella naturale. Da quel momento in poi, al primo sorso, ha cominciato a star male. Brucia, brucia, brucia. Brucia, brucia e sviene. Poi la portate in bagno, la portate, e lei vede che fa sangue. Sì, ha cominciato a sputare sangue dalla bocca e dal naso. Immagino tutti quanti lì intorno, per un genitore, una cosa del genere, è tremenda. E, tra l'altro, questo liquido è in odore e in sapore, non la fondamenta a nessuno. Sì, è un colore in odore e in sapore, e soprattutto altamente lesivo. Viene usato per la stoviglia o cose di questo genere. Sì, è un detergente per la stoviglia. Che poi c'era anche un'altra persona lì, ho letto che... Sì, lì praticamente, come la bambina si è sentita male, e vicino al gazebo c'era un'altra persona, un ospite, che gli ha prestato subito soccorso. E poi hanno provato anche a sentire e a odorare, ma... Sì, sì, l'ha cominciato a sentire, diciamo, al naso, ma era completamente in odore e in sapore. E quindi, quando è che avete saputo cosa c'era nel bicchiere? Quando siamo andati all'ospedaletto dei bambini, li hanno capito che era una sostanza caustica, perché hanno potuto vedere la reazione... Ah, solamente dopo, quando l'avete portata all'urgenza in ospedale. I medici che cosa vi hanno detto? Al di là di quello che aveva ingerito. E i medici hanno capito subito che era una sostanza, diciamo, che le aveva creato delle lesioni, anche perché cominciava a modificare le labbra, cioè si gonfiavano, eccetera, eccetera. Continuava anche a vomitare sangue. Quindi hanno capito e hanno fatto una gassostura. Lei si è fatto il viaggio in ambulanza con la bambina? Sì. Che è rimasta cosciente per tutto quanto il viaggio? No, cosciente no. Era... si pensava al peggio. E i medici cosa vi hanno detto? Hanno fatto questa gassoscopia? Dopo la gassoscopia il medico ci ha detto guardate non abbiamo mai visto una reazione del genere, un danno del genere causato da questa sostanza. Tra l'altro credo che ci sia proprio mancato un niente, roba di mezzo centinaio. Sì, sì, poi ci hanno raccontato che nell'ulcera antrale, nello stomaco, perché il liquido è passato, ha creato questa ulcera che mancava mezzo centimetro la perforazione. E si è salvata perché aveva mangiato qualcosa prima che ha fatto da... Sì, perché putisce il cibo sulla... Oh, le conseguenze sono state gravissime. Quali? Le conseguenze sono state gravissime. Ha dovuto subire 45 interventi. Quindi ogni 21 giorni... A Parma, no? A Parma, sì. Ogni 21 giorni... Ogni 21 giorni noi da Bari andavamo a Parma, dove la portavano in sala operatoria, praticamente le praticavano queste gastroscopie per guardare innanzitutto l'evoluzione del danno, che si protraga, perché comunque è una ferita interna, le lasciamo immaginare quanto possa, diciamo, essere difficile una situazione del genere. Ovviamente un calo ponderale del peso. Quanto è arrivato a pesare? Era arrivato a 27 kg da 52, perché non poteva più alimentarsi. Quindi solamente cibi liquidi, per endovenosa... Sì, solo in parentelare. Adesso sono passati sei anni. Come sta la sua figlia? Adesso Anna Maria, diciamo, la fase, diciamo, acuta è passata. Però è chiaro che adesso non vive una situazione come tutti gli altri bambini, perché non può alimentarsi normalmente. Se lei riesce in pizzeria, non può mangiarsi una pizza, come tutti gli altri bambini. Rischia che si blocca il cibo se dovesse sbagliare a masticarlo. Questa è una situazione irreversibile? Certamente sì. Quindi per tutta la vita? Per tutta la vita. Però c'è. Però c'è. Però c'è. E per la scuola come ha fatto? Perché 21 giorni... Eh sì, è avuto praticamente un calo anche nella ristruzione, e quindi adesso noi la facciamo seguire per recuperare anche da insegnanti privati. Ovviamente a carico vostro. A carico nostro, certamente. Certamente a carico nostro. Che da un giorno all'altro vi siete trovati in questa realtà. Pensate, questa bambina, le prove che ha dovuto superare a partire da nove anni. Adesso che è adolescente, come convive con questi traumi? E certo, adesso lei non lo racconta tantissimo. Perché vive, diciamo, questa... Lei sa che si è salvata. Lei sa che si è salvata. E quindi è diventata... Forse è cresciuta troppo in fretta. Perché una bambina a nove anni si ritrova a superare queste prove, non si vive l'adolescenza, e diventa un problema per poi. La vita non è giusta, amico mio. Immagino che anche la vostra vita sia stata completamente stravolta a livello di lavoro, privato, economico anche. Certo. Abbiamo dovuto far fronte con le nostre forze a tutti i sacrifici. Ma di tutti i modi. Io la guardo negli occhi, Gianni, vedo che ha uno sguardo dolce ma determinato. E quando si è genitore è così. Allora. Il processo civile è terminato dopo tanti anni. Però quello penale è ancora in piedi. Gli imputati hanno fatto appello contro la sentenza che li aveva condannati a otto mesi di reclusione. Ma lei però non è qui per questo. Certamente. Diciamo che una delle cose che mi dà un senso a tutto questo è che dobbiamo cercare che queste cose non accadano più. Quindi se solo un ristoratore o uno che sta nell'ambito del food capisce che manipolare queste sostanze facilmente in maniera distratta scelerata possano portare a conseguenze gravi ahimè in alcuni casi anche alla morte. Anzi, anzi lì siete stati tempestivi però le conseguenze non se le portano per tutta l'età. sicuramente da casa qualcuno si starà chiedendo ma le hanno mai chiesto scusa? Mai mai non c'è stata nessuna collaborazione alcuna hanno negato? Hanno negato tutto Cioè ve la siete portata da casa praticamente? Sì Questa è la dura verità di affrontare un processo all'italiano Giovanni un abbraccio a sua figlia da parte di tutti quanti noi Grazie Anche perché mi viene da dire che una giustizia che non è immediata una giustizia che è lenta mi spiace dirlo io credo nelle istituzioni ma una giustizia così lascia veramente l'amaro in bocca Grazie Giovanni Cagnazzo Grazie Ci fermiamo qui e torniamo tra pochi istanti Grazie Grazie